Piatto tipico della tradizione pastorale dell'Abruzzo, l'arrosticino, presto si avvarrà di un disciplinare che ne certificherà alcuni elementi imprescindibili come il riconoscimento per operatori locali, dei trasformatori del prodotto che operano nel territorio abruzzese e sarà dunque una massima garanzia della qualità a tutela del consumatore finale, oltre a valorizzare il territorio attraverso il marchio e l'identità abruzzese in Italia e nel mondo. Riconducibile alla fascia orientale del Gran Sasso e più precisamente nella zona della Piana del Voltigno, comprendente i comuni di Villa Celiera, Civitella, Casanova e Carpineto della Nora, la leggenda narra che furono inventati negli anni 30 da due pastori che tagliarono la carne di una pecora vecchia, difficilmente mangiabile, in piccoli pezzi. I pezzettini sono poi diventati i famosi arrosticini, utilizzando un bastoncino di legno chiamato ving, una pianta che cresce spontaneamente sulle rive del fiume Tavo e Pescara. Sull'argomento è intervenuto nei giorni scorsi l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe. Un percorso è stato già attivato e ha portato alla registrazione di un marchio regionale della rosticina abruzzese, grazie ad ARA, associazione regionale allevatori, che ha nella mission istituzionale la valorizzazione dei prodotti tipici. Ora è necessario, continua l'assessore, avviare l'ultima fase che prevede il coinvolgimento dei portatori di interesse. Dunque una pietanza che si perde nella notte dei tempi e che nelle calde serate estive fa felici abruzzesi, ma soprattutto i tanti turisti che arrivano nella nostra regione.